Sono stati giorni particolarmente intensi in Casalecce, con ben tre colpi messi a segno nelle ultime ore. Per quanto concerne il mercato in uscita, Jean Drey è ufficialmente diventato un nuovo calciatore dell'Hoffenheim, con i Salentini, che dal proprio canto si sono consolati prima con Frederic Gilbert e poi con Antarebic. Sono loro gli ultimi due rinforzi in ordine cronologico del mercato in entrata dei Salentini, con Pantaleo Corvino, che a Milano dovrà preoccuparsi solo di piazzare tre giovani scontenti. Contiamo 10 acquisti e 15 sessioni. Abbiamo preso tutti i giocatori, secondo noi, importanti, secondo noi, pronti per il nostro campionato, seppur difficile. In ogni reparto, io ho fatto anche un breve prospetto, in ogni reparto abbiamo almeno due giocatori per ogni ruolo. Abbiamo 8, 9, 11 titolari della passata stagione. A volte si fa clamore perché si cerca quello che manca per individuare poi i colpevoli o cercare alibi di questo o di quell'altro. Ci tengo a fare una considerazione sull'ultima sessione che abbiamo fatto, un'operazione straordinaria. Perché qui a Lecce, purtroppo, c'è l'abitudine di criticare quando arrivano dei giocatori sconosciuti, da Hulmand all'ultimo Gendrei. E non vorrei che si facesse lo stesso errore con Gilbert e con Perlman, che sono poi i due giocatori che lo hanno rimpiazzato. perché, a mio modo di vedere, abbiamo anche in questo migliorato, visto che ne sono arrivati due e Gilbert è uno che, insomma, non è l'ultimo arrivato. Anche la carriera la dice lunga.